Sì, mi ricorda di cammino alla strada della giungla, popolata di bel befferoci, chi sarà sempre uno che attraversa dietro l'auto in sosta, quello che passa dietro la macchina nell'ultimo secondo, quello che ha la portiera mentre stai passando tu. Bel befferoci, il pericolo può essere dietro il mio angolo e forse anche la morte, ma tu stai tranquilla. Se prima era terrorizzata ora va molto meglio. Non reagire mai alle provocazioni, non reagire mai alle provocazioni, ma che cazzo suoni? Cosa cazzo suoni? Lo vedi da P? Lo sai cosa vuol dire P? Principiante. Principiante, capito? Vuol dire principiante da P, capito? Faccia di merda, tu, tu, faccia di merda. Cosa? 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 Ehi, che cazzo sta parlando con me? Ehi, ehi, che cazzo mi sta parlando con me? Tu ne capisci che sta parlando con me? Stai capendo? Papà, c'è nessuno. Papà, c'è nessuno. Papà, c'è nessuno. Robert De Niro, no. Guarda, vedi, se ne sta andando. Lo senti? Sai perché se ne sta andando? Perché l'ho terrorizzato. E lo sai perché l'ho terrorizzato? Perché era tutto un reattore indistintivo. Era tutto un reattore indistintivo. Grazie. Grazie.